ed eccomi qua chiaramente in questo periodo invernale tutto si complica il tempo che questa notte ha fatto fatto veramente freddo la pioggia il vento l'acqua che che si abbassa e quindi le pretese sono veramente basse però comunque qualcosa qualcosa nei nostri canali arriva sempre soprattutto se si è fatto una fasturazione abbastanza abbastanza importante ecco qui il pesce che è venuto a trovarmi in questo momento che so che a tanti di voi piace ecco ecco il pesce gatto americano in questo momento sono terrorizzato da questi speroni perché quasi sempre mi aprono una mano e quindi appena si muove lo lascio cadere sul materassino eccolo qua un bel pesce gatto americano di quelli che divertono divertono veramente il pesce gatto che è caduto che non era resistito su sulle palline nuove alla crema e cocco veramente la taglia di questi pesce gatti americani in questi canali è veramente 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 eccezionale poi ci sono divertenti bene vado a liberarlo e vediamo se ci arriva qualcosa a dopo a dopo Grazie a tutti. Giornata che purtroppo sta peggiorando, però ha voluto regalarmi un'altra sorpresa, che è quello poi che cercavo. E' quello che oggi ero venuto a cercare. E' una bella carpa che è venuta ad assaggiare le mie nuove esche. E' una carpa sana, come tutte le carpe di questi canali. E' una bella carpetta tonda, che sta mettendo sulla pancia per la riproduzione della prossima primavera. Ultima, ultima volta prima di andarla a liberare. Eccola qua, ecco la carpa che è appena arrivata. Bene ragazzi, anche oggi è andata bene. Bene, spero di continuare così. A presto. Vado a liberare anche lei. Vado a liberare anche lei. Grazie a tutti. Noperando. Grazie a tutti.